Saranno avviati a breve i lavori per la messa in sicurezza della discarica abbandonata di Portella Arena. Il progetto per la realizzazione di opere mirate all'eliminazione di infiltrazioni di percolato nel terreno ha ottenuto, dopo una serie di rinvii, l'approvazione del genio civile con la firma dell'ingegnere capo Gaetano Sciacca. I lavori, che costeranno poco più di un milione di euro, consentiranno, tramite la realizzazione di opere idrauliche da realizzarsi al piede della discarica, quantomeno di salvare il salvabile in attesa di una riqualificazione totale delle aree che non appare invece né immediata né facile. La discarica di Portella Arena, chiusa nel 1998 su disposizione della magistratura, rimane infatti una bomba ecologica da disinnescare. La spazzatura, accatastata per molti anni abusivamente e senza alcun criterio, anche dopo la chiusura ufficiale della discarica, ha creato, come vi abbiamo mostrato in una recente puntata di Extra, vere e proprie montagne di rifiuti, coperte dalla vegetazione, verde che però non può nascondere una drammatica realtà. I lavori del Comune, autorizzati ora dal Genio Civile, consentiranno di eliminare i rischi derivanti dalle infiltrazioni di percolato nel terreno per la realizzazione di un parco urbano, secondo le richieste del quinto quartiere, per il momento nessuna reale prospettiva.